Una giovanissima cantautrice e una delle voci anche più originali del cantautorato attuale. Benvenuta ad Anna Castiglia. Ciao Anna, come stai? Ciao Valentina, bene, un po' stancavo molto bene. Sei in attività mi dicevi, mi raccontavi. Sicuramente non sono passiva in questo momento, sono stra in attività. E raccontaci che cosa, perché sei in movimento, per il tuo nuovo progetto. Sì, è per uscito il mio primo album, si chiama Mi Piace, e quindi sono in fase di promozione, lo porto un po' a spasso. Certo, lo tieni per mano. In modo fisico, perché digitale è in giro. E senti le prime impressioni, insomma tu sei soddisfatta, come sta andando. Sì, molto bene. Come è stato lasciarlo un po' nel mondo? Bello, meglio di tenerlo dentro, perché nella stanzetta poi dopo un po' diventa stagnante, lo odi. Invece farlo uscire è un modo per rinnovarlo, anche le canzoni più vecchie rinascono in qualche modo. E certo, a proposito della stanzetta, leggevo sui tuoi social che tu hai detto, è un album fatto in pigiama nella stanzetta. E mi ha incuriosito, perché effettivamente è un album che spazia un po' nei vari generi. Quindi si passa dal jazz all'elettronica, ovviamente tu sei una cantautrice. E allora ti chiedo, ma quanti colori c'erano in questa stanzetta? La stanzetta in cui sono nati questi brani, poi in partenza ci sono tante stanzette in tante parti d'Italia. È proprio inerante, perché l'ho scritto in tanti anni. Però in quello in cui l'abbiamo prodotto veramente tanti, perché erano tre teste. Quindi ognuno ha dato il proprio contributo artistico, creativo, tecnico e il proprio parere. E quindi era una tavolozza veramente con infinite sfumature. Spero non confonda troppo questa cosa. In realtà è una scelta quella di fare un album che poi è una playlist. E a proposito di questo, ho visto anche la copertina dell'album, è molto particolare. Come è nata l'idea? Anche lì l'impressione è che tu voglia mettere insieme tanti pezzi e essere anche tante cose. Esatto. Intanto è fatta a mano. L'abbiamo fatta io e Letizia Spatara. La foto l'abbiamo scattata insieme, poi l'ha stampata, ha ritagliato la figura e sotto abbiamo fatto varicolla. Ci abbiamo provato qualcosa. L'idea è quella sì, di far vedere. Intanto non è un concept, quindi non sapevo bene come giocare su questa copertina. E ho detto, vabbè, usiamo la mia immagine, perché comunque era anche una richiesta discografica. Dai, metti la tua foto. Però non volevo la mia foto. Così. Classica. E ho detto, facciamo un collage, perché alla fine quest'album, come hai detto tu, è una raccolta di mille cose. Una sorta di mosaico, ma incoerente, con pezzi diversi. La figura in bianco e nero, perché magari all'interno c'è del bianco e nero, anche se poi invece le nuvole sono a colori e lo sfondo a colori. C'è un dualismo nel brano. Ci sono pezzi latin, molto tropicali, allegri. E dei pezzi invece molto tristi pop. E quindi per questo. Giustamente. Senti, ma l'amore per la musica, quando è nato, e soprattutto c'è anche lo zampino della tua famiglia, dei tuoi genitori? Sì, diciamo che è proprio per questo. Io sono nata nell'amore per la musica. Non è nato in me all'improvviso, perché è stato un po' sottinteso, non so come dire. Di sfondo sempre, però non era uno sfondo, era anzi stra presente, perché i miei si sono conosciuti in teatro, recitavano. Mio padre è un comico, speaker, radiofonico, quindi lui tutti i giorni ascoltava musica. Quindi insomma la ascolti da sempre. Da sempre. Poi invece ho visto la mia migliore amica a nove anni, anche io avevo nove anni, che studiava chitarra classica. Ho detto la voglio fare anch'io e da lì ho detto vabbè forse non voglio solo stare nella musica così come averla come sfondo, ma farla. E quanti anni avevi? Nove. Ah, nove. Poi ho capito di farlo, di volerlo fare come lavoro, ovvero scrivere canzoni e fare le mie canzoni a 18 anni a Torino. Che è un passaggio importante forse. Sì, sì. A proposito insomma di città, tu sei nata a Catania e poi ti sei trasferita a Torino, ma parlando di Catania, quanto sei legata alla tua terra e soprattutto come è stato, non so fino a che età sei rimasta lì, come è stato crescerci sicuramente una prima fase l'avrai trascorsa lì, no? Sì, fino ai 18 anni. Come un periodo felice o anche magari con qualche difficoltà? Sicuramente ho avuto tante difficoltà personali, cioè comunque fino a 18 anni hai tante vite diverse, perché l'infanzia è una vita, poi ne inizia un'altra che è quella dell'adolescenza e poi insomma sono veramente tante esperienze diverse, però comunque è positivo. Cioè la mia infanzia la ricordo molto molto bene con mia sorella, gemella. Ah, vero. Sì, è stata molto creativa. Anche lei fa musica? Lei fa circo. Ah. Sì, a Parigi, quindi ancora peggio. Quindi in giro per il mondo, poveri genitori. Sì, esatto. No, loro sono tipo costrette, però a me piace tornare a Catania tantissimo. E poi insomma i tuoi genitori dicevi anche in teatro, per cui l'arte è sempre circolata. Sempre, c'è sempre stata, sempre sì. Ho capito. E leggevo anche che hai fatto Piano Barro, sbaglio. Sì, facevo, ho iniziato facendo le cover a Catania. Sì. E com'era? Cioè, com'è quel mondo? È molto utile, perché ti mette sempre alla prova. Io ho imparato tantissimo da quelle date. Uno a montare cavi, mixer, anche perché quei locali non erano tanto poi provvisti, quindi tu ti davano mille cose e tu cercavi di provare tutto da sola, senza sapere nulla, di niente. Poi lavorare a Catania, dove ci sono anche tanti turisti, venivano sempre i militari di Sigonella, nei loro giorni liberi, dovevi un po' conquistare il pubblico. Cioè io facevo un lavoro proprio da etichettatrice, guardavo da fuori mentre suonavo e dicevo ok, questo pezzo magari potrebbe attirare quelle persone. Quando si sedevano e ordinavano, cambiavo preda. E poi avevi, insomma, un riscontro positivo. Sì, molto. Ci prendevi. Sì, moltissimo. Poi lì già capivo che mi piaceva fare cose mie, perché le cover le cercavo sempre. Non era mai karaoke, faceva degli arrangiamenti diversi. Mi ha preso il cover che sceglievi? Allora, la mia particolarità era un repertorio in tante lingue. Quindi c'erano canzoni in spagnolo, Besa Memucio, qualcosa in portoghese, Maschenada, poi in francese, di Zaz. Ma hai studiato proprio lingue? Sì, io studiavo linguistico nel frattempo. Quindi erano in tante lingue, poi in siciliano, ero un repertorio un po' world music, non proprio pop. E quindi per quello mi divertivo, avevo un po' questo lato, insomma. Certamente. Tornando all'album, mi vorrei soffermare su due pezzi. Uno è proprio mi piace, che insomma dà il nome al disco. E tu dici la musica è un cono a tanti gusti. Ah, ti chiedo, è più una richiesta di libertà o è proprio una rivendicazione di stile, di una tua dimensione? La musica è un cono a tanti gusti, è una frase che io mi dico per ricordarmi che ci sono tante persone, tante persone che fanno musica, tante persone che ascoltano, sono tutte diverse tra di loro e che quindi va bene non piacere, quindi è più un incoraggiamento che io mi do. Cioè la musica sono tante cose, non devi essere, senza dovere, cioè sì e basta, senza dover essere per forza qualcosa perché poi non si piace. No, ci sono così tanti gusti e così tante preferenze diverse che poi si abbinano tra di loro. E ci riesci? Sì, penso che posso riuscire ad avere il mio pubblico che appunto qualcuno mi riconoscerà, come dice la canzone. Il pubblico adatto a me, cui piacciono i miei gusti. Certo. Lo trovo. Vabbè, è già un segnale però di grande maturità perché magari no, non è sempre. E invece in participio presente anche lì c'è un po' una, chiamiamola critica sociale o comunque delle osservazioni che tu fai, che è pesante, sei troppo critica e soprattutto dici per monetizzare devi fare un po' la stupida. Sì. Me la spieghi questa frase? Ma diciamo che a volte mi è stato, vabbè ti senti dire di dover alleggerire, di non dover annoiare, non essere pesante, anche solo nelle canzoni questo termine è troppo, il termine magari era nonostante, cioè paroloni, capito? Quindi sembra quasi che la superficialità regni e che se sei troppo, anche in ambiente pop, se sei troppo studiata non va mai bene ed è un messaggio sbagliato secondo me. E quindi tu al contrario, insomma, vuoi contrastarlo? Sì, 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 più secchiona, ancora più secchiona di come sono. È un po' una provocazione, sicuramente. Sì, sì, lo è. Ti piace provocare? Beh, dal disco direi di sì. Sì. Giustamente. Ascolta, tu ovviamente il pubblico ti ha conosciuto grazie ad X Factor e ti va di raccontarmi un po' i vari step e poi, insomma, ti faccio una domanda su una mia curiosità. Sì. Ma X Factor… Come è nata e come è andata poi? Come l'hai vissuta? È nata così dal nulla. Io la settimana prima avevo anche fatto un post in cui dicevo adesso mi fermo, non suono per un po', voglio dare gli esami al conservatorio, volevo studiare. E poi è successa questa cosa, che mi hanno chiamato subito per la cosa in tv, diciamo che è stata un'esperienza diversa dalle solite perché è tv e io pensavo, e lo sono, nel senso lo so che non sono per nulla televisiva, però in qualche modo è andata bene proprio per questo forse, perché per vedere qualcosa di diverso… Hai ottenuto subito, insomma, un piano consenso, no? Sì, subito, quando è andata in onda, perché quando l'ho fatto personalmente mi hanno eliminata, per cui non avevo un consenso, almeno da parte degli autori, giudici… Certo, dopo… Dopo, dopo è andata bene. C'è il tempo, insomma. Dopo l'estate… Noi, vedendole, insomma… Sì, sembra che sia in quel momento, ma no, quella è prima, quella è in primavera, quasi estate, poi passi tutta l'estate con l'ansia a capire cosa hanno messo nel montaggio e poi a me è andata benissimo, devo dire, mi hanno fatto delle bellissime riprese, dei bei montaggi, mi hanno sempre ricondivisa e quindi questa cosa mi ha portato bene, mi ha fatto conoscere un pubblico più ampio, soprattutto al mio team, a me interessava quello alla fine. Tra l'altro tu, mi ricordo, appunto, hai portato Un Tempo Piccolo di Califano e dato che siamo a Roma e poeta di Roma, perché l'hai scelta e che significato hai dato tu a quella canzone? Sì, allora, qui lo posso dire, non scegliamo noi le canzoni, le scelgono gli autori, tra le nostre proposte però. Certo. Questa era la mia preferita in realtà, perché è una di quelle che facevo nel piano bar, vedi? Quell'arrangiamento lì. Sì, io ho fatto tutte le… mi hanno detto fai delle cover, ho proposto per te il raccoglitore, ho detto ok, il raccoglitore di quando avevo 16 anni, ho detto quella sicuramente, perché era la mia preferita sempre, quindi sono stra contenta che loro l'abbiano scelta e in questo ci siamo trovati e mi abbiano dato anche molta libertà di farla con la chitarra, anche sopra la base… E ti ricordi magari quando l'hai ascoltata per la prima volta o comunque… Sì, con mio padre, anche quella, la metteva sempre a casa o in macchina, ero piccolissima, mi piaceva troppissimo, sì, emozionante quel pezzo. E per te appunto che significato ha quello che dice, quello che canti, no? Parole… È molto sincero il suo modo di scrivere, lo invidio tantissimo, è proprio straziante quella canzone, non lo so, mi mette molta solitudine, nostalgia, però mi piace. È molto bella, però era anche piaciuto il tuo modo di interpretarla. Sì, sì, devo dire quella versione è andata molto bene, l'arrangiamento l'ho fatto con Simone Matteuzzi, con cui ho fatto tutto il disco. E poi sai, quando si portano pezzi così importanti di artisti grandi, è sempre un rischio, no? Sì, sì, sì. Perché magari vieni proprio bocciata. Sì, sì, capita. E invece tu sicuramente hai accettato la sfida e poi è andata bene. Molto, devo dire. A proposito di cantautori, hai anche aperto i concerti di Max Gazze, vero? Sì, subito dopo essere eliminata per la seconda volta ho aperto… un record, ho aperto il tour teatrale di Gazze. E com'è andata? Benissimo. Lui, hai avuto modo, insomma, di ripetarci? Sì, sì, ormai… Che consigli ti ha dato? Lui mi dà… È uno, diciamo, degli eroi, no? Di quelli che resistono e proteggono pure la propria originalità, quindi… Sì, lui tantissimo, io lo stimo da morire. Ripeto, sia lui che è Carmen Consoli, altra artista che ho conosciuto in questi mesi. Anche se mi danno dei consigli e io già ne sono estasiata il fatto che loro si preoccupano di darmi dei consigli, però anche quando non lo fanno puoi imparare sempre qualcosa da loro, perché sono artisti veramente a tutti gli effetti, sono dei professionisti e delle bellissime persone, che per me è la cosa più importante. Buonamente. Sì, da Gazze puoi imparare che te ne puoi veramente fregare, puoi fare uno spettacolo con pezzi che non hai mai suonato dal vivo, prog, e fare quello che vuoi ed è bellissimo. E tu vorresti questo grado di libertà? Sì. Devo dire che già con OTR mi danno molta libertà ed è bellissimo come team, lo stesso team è loro, quindi già solo aver fatto due tour senza avere l'album fuori è una cosa per nulla canonica, anzi tendenzialmente sbagliata, è anacronistica, invece è stato molto bello, molto vintage. Significa dare fiducia. Tantissima, e io anche loro, quindi bello. È reciproca. E a proposito di tv, tu dicevi insomma forse che non è un ambiente in cui ti senti molto a tuo agio, ma pensi che magari in un futuro, quando ci saranno altri momenti, potresti ritornarci, ti piacerebbe? Ma io non penso di potersi nobare niente, cioè mi apro a tutto. Quindi dico sì, se dovesse capitare, ad esempio anche musicoltura era tv, anche se non lo sapevo perché mentre sei lì è teatro praticamente, sì poi devi rifare la stessa cosa l'indomani, però lì non lo senti che è tv, in altre cose invece un po' di più penso che potrebbe anche aiutarmi a crescere, magari appena, non lo so, appena sboccio un po' di più, mi sento un po' più sicura con me stessa, col mio modo, col mio corpo e tutto, magari sarà anche, mi troverò anche bene in tv, chi lo sa. E qual è un obiettivo che ti poni per… No, proprio no. Non ci sono. No, stare bene con me stessa, col mio corpo sì, in tv no, non è un obiettivo. No, 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 non per la tv, tuo personale, magari c'è qualcosa che segni sull'agenda e di se vorrei riuscirci. Sì, sì, vorrei tantissimo sciogliermi e donarmi ancora di più, perché a volte mi limito un po', anche se non sembra, ma magari ho un velo ancora di timidezza, di disagio che non mi fa lasciare andare come vorrei e come faccio nella mia stanza. 100%, sì. Vabbè, piano piano. Sì, esatto. Per concludere, quali sono tre canzoni che non possono mancare nella tua playlist e tre oggetti che tieni sul comodino? Tre canzoni esterne in generale? Sì, che ascolti. Ma ti dico, una canzone che ho ascoltato un sacco, che la cito anche in me, c'è Amore Impossibile di Tiro Mancino, perché rappresenta il cantautorato, la scuola romana, poi ti posso dire Back to Black di My Winehouse, ma le prendo come manifesto, non come canzoni che… perché rappresenta una cantautrice che io stimo tantissimo, quindi il mondo delle cantautrici e delle persone che soffrono, sì, esatto. E poi come terza canzone forse ti potrei dire qualcosa di Rosa Balistreri, che è una cantautrice siciliana storica, potrei dirti che ti lo dissi sua, la versione l'ha fatta anche Carmen Consoli, perché rappresenta la canzone di protesta e la sicilianità. E poi l'altra domanda era? I tre oggetti che tieni sul comodino. Ok, non ho male, non mi chiesto dentro, perché erano oggetti particolari. Allora, sopra il comodino sicuramente una bajur, perché mi piace sempre, quando scrivo voglio una luce suffusa. E poi il mio quaderno per scrivere, la matita la includo nel quaderno, il terzo è un bicchiere d'acqua, perché mi devo idratare, sono una cantante. Anna io ti ringrazio, in bocca al lupo, buona musica. Grazie Valentina, ciao.